Ciao a tutti ragazzi, buon martedì e benvenuti a Videogame News, la rubrica di EveryEye.it che vi permette di essere sempre aggiornati con tutte le notizie dal mondo dei videogiochi. Cominciamo la puntata di oggi parlando di Batman Arkham Knight. Secondo quanto riportato dal Microsoft Store, infatti, il gioco potrebbe essere in tutti i negozi il 24 febbraio del prossimo anno. Occorre precisare tuttavia che né Warner né Rocksteady hanno assolutamente confermato la notizia che poi è stata addirittura successivamente rimossa, quindi potrebbe trattarsi semplicemente di un errore e la data potrebbe essere soggetta quindi a variazioni, ma vi terremo naturalmente informati. E passiamo adesso alla software house West Games, come alcuni di voi sapranno, formata da ex membri del team che era responsabile del primo Stalker. Il team ha annunciato una campagna Kickstarter per la creazione di un nuovo gioco. Si chiama Arial ed è nuovamente distopico. Questa volta si parla di una terra devastata da un'infezione causata da una materia extraterrestre nota come metamorfite. La libertà di esplorazione e di decisione all'interno del vasto mondo di gioco liberamente esplorabile sarà assoluta e gli sviluppatori annunciano anche la completa assenza di un sistema di morale, cosicché le azioni non siano per forza legate al solito dualismo buono o cattivo. La campagna raccolta fondi aprirà il 26 giugno e le piattaforme di rilascio per adesso annunciate sono PC, Mac, Linux, Xbox One, PlayStation 4 e Wii U. Passando invece ad Ubisoft, la casa ha appena annunciato lo sviluppo di The Settlers Kingdom of Anteria, ennesimo sequel dell'apprezzatissima saga gestionale strategica. Il titolo è in sviluppo presso Blue Byte e non ne sappiamo assolutamente nulla se non che gli sviluppatori parlano di un'esperienza assolutamente nuova all'interno del franchise. Anche la data d'uscita per adesso non è stata confermata, si parla solamente di un generico 2014. E rimanendo sempre in tema di produzioni strategiche, parliamo di 2K Games che ha invece annunciato, Civilization Revolution 2, ossia il sequel di quel titolo uscito sia su piattaforme mobile sia su PlayStation 3 ed Xbox 360 nel 2008. Questa volta la produzione è destinata solamente tuttavia ai dispositivi portatili, ossia iPad, iPhone ed iPod Touch. Arriverà il 2 luglio ma solo successivamente sui dispositivi Android. Non sappiamo moltissimo sul gameplay se non la confermata presenza di alcune figure importantissime della storia, tra cui John Fitzgerald Kennedy, Winston Churchill e Abraham Lincoln. Come sicuramente saprete nei giorni scorsi sono trapelate diverse informazioni relativamente a The Witcher 3, The Wild Hunt, in seguito all'hacking dell'account Google Drive di uno dei dipendenti proprio di CD Projekt Red. All'interno dei suoi file personali si trovavano diverse informazioni relative all'utilizzo di periferiche per console. Parliamo di, per quanto riguarda Xbox One, di Kinect per alcuni comandi vocali, ma anche di Smart Glass, per quanto non vi fossero ulteriori informazioni relative all'utilizzo di quest'ultimo. Per quanto riguarda invece PlayStation 4 si parla dell'utilizzo della light bar. È trappelata poi inoltre una immagine molto dettagliata della mappa di gioco e soprattutto di Hard Skellige, che è una delle isole che sarà possibile esplorare. Solo questa è grande 64 km quadrati, quindi già da sola molto più del territorio offerto ad esempio da Skyrim. Ricordiamo però che The Witcher 3 offrirà anche altre due aree esplorabili, Novigrad e No Man's Land. Quindi ci possiamo aspettare un'estensione territoriale davvero incredibile. Come sicuramente ricorderete, all'inizio di questo mese Microsoft ha annunciato Forza Horizon 2 e il suo sviluppo cross-platform. Proprio quest'ultimo ha generato moltissime polemiche perché così come è successo con moltissimi altri titoli proprio di questi mesi, lo sviluppo cross-platform porta spesso ad una limitazione in termini grafici per quanto riguarda la console next-gen, in questo caso ovviamente Xbox One. Lo sviluppatore Playground Games tuttavia vuole rassicurare i fan e annuncia conseguentemente che lo sviluppo è totalmente disgiunto. Si tratterà quasi di due giochi diversi, utilizzano proprio due engine grafici completamente differenti e non solo la versione per Xbox One, avrà anche ad esempio il clima dinamico e l'implementazione dei DRAV DRIVATAR. Tutte caratteristiche che invece nella versione per Xbox 360 non saranno presenti. Naturalmente noi aspettiamo di vedere i risultati finali prima di trarre le nostre conclusioni. Se siete fan di Pro Evolution Soccer, segnatevi la data di domani sul calendario perché proprio mercoledì Konami pubblicherà un videogameplay naturalmente teso a svelare tutte le caratteristiche del nuovo capitolo della fortunatissima serie calcistica. Naturalmente su EveryEye daremo la massima visibilità al video, quindi state sintonizzati sull'home page. E torniamo nuovamente ad Ubisoft che si trova nuovamente coinvolta in un presunto caso di downgrade grafico. Questa volta l'oggetto della contesa è The Division, infatti uno sviluppatore che naturalmente è rimasto anonimo di Ubisoft Massive, avrebbe parlato di un downgrade grafico già effettuato rispetto alla primissima demo vista l'anno scorso che girava naturalmente su PC. Questo, così come era successo con Watch Dogs, avrebbe lo scopo di non differenziare troppo le versioni next gen da quella PC. Naturalmente non ci sono assolutamente conferme per questa affermazione, potrebbe trattarsi anche soltanto di qualcuno in cerca di fama sulla scia delle grandissime discussioni che ci sono state in seguito al rilascio di Watch Dogs e quindi aspettiamo di vedere con i nostri occhi per poter eventualmente confermare o smentire. E come di consueto passiamo adesso alle nostre personalissime top e flop news. Il top di questa settimana non possiamo non assegnarlo a Microsoft. I pre-order di Xbox One in Giappone stanno andando infatti estremamente bene dopo i risultati piuttosto deludenti riscossi invece da Xbox ed Xbox 360. La famosa catena di rivendita Games Maya ha addirittura annunciato di aver già esaurito le scorte della Day One Edition, mentre altri reseller effettuano sconti dal 5 al 10% per alcuni bundle con gli accessori inclusi, quindi incentivando ulteriormente i pre-order. Complimenti quindi a Microsoft per l'ottimo lavoro questa volta svolto nelle terre del sollevante. E il flop di questa settimana va invece a Rebellion. Lo sviluppatore ha infatti annunciato che chi comprerà una copia retail di Sniper Elite 3, il loro nuovo gioco in uscita nei prossimi giorni, su Xbox One dovrà scaricare una patch da ben 10 GB. Questa serve sostanzialmente a conformare le copie retail con quelle digital delivery che vengono invece acquistate direttamente dallo store Microsoft. Inoltre la grossa patch contiene anche un pacchetto di compatibilità che serve sostanzialmente a permettere a chi scarica il DLC multiplayer di giocare anche con chi non ce l'ha. Si tratta naturalmente di una pessima notizia per tutti coloro che non disponendo di una buona connessione ad internet dovranno aspettare diverse ore prima di giocare pur avendo acquistato una copia in negozio. E con quest'ultima notizia anche per l'edizione di oggi era tutto. Noi vi diamo appuntamento come sempre al prossimo venerdì. Ciao!